Siamo arrivati al capitolo tredicesimo che è di massima attualità, visto che parleremo soprattutto di peste, di una pandemia avvenuta nel 300. Non farò tutto il capitolo intero ma solo una metà perché vale la pena di approfondire un pochino soprattutto il discorso della peste che è di estrema attualità. Allora cosa dobbiamo dire? Dobbiamo cominciare a presentare il 300, lo vediamo qui, faremo il punto 1 e il punto 2. Il punto 1 ci dice che la popolazione diminuisce per una grande epidemia, l'epidemia di peste nera e anche per guerre e carestie. Ricordate questi tre aspetti. Il calo della popolazione, la studieremo, fa diminuire la domanda di cereali, quindi avranno un disagio, una perdita economica forte ai proprietari terrieri, ma poi vedremo invece chi avrà qualche miglioramento ma soprattutto aumenteranno le tasse e quindi ci saranno rivolte, però represse e ci fermeremo qui perché la terza parte è degna di uno studio a sé. Cercherò anche di spiegarvi un po' diversamente rispetto a quello che dice il libro riguardo alla peste, niente di diverso e sono sostanzialmente delle integrazioni. Allora intanto incominciamo a ricordare che dopo l'undicesimo secolo c'era stata, dopo il 1000, soprattutto il 1000 e il 1100 nel Medioevo una grande ripresa dell'agricoltura, della produttività agricola. Questo per il miglioramento anche delle condizioni climatiche per una serie di stagioni buone che in generale aveva portato al miglioramento, ma nonostante questo il libro dice che comunque non va esaltato eccessivamente questa produttività dell'agricoltura, noi l'avevamo studiata così, ci abbiamo detto che c'era stato un miglioramento agricolo, qua sembra contraddirsi il libro, dice che tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo l'agricoltura rimase poco produttiva, certo non è l'agricoltura moderna, non c'erano fertilizzanti, non c'erano macchinari e quindi bastava una grandinata o una stagione brutta per far diminuire la produzione, ma diciamo che è corretto dire che dopo il 1000 ci fu una ripresa, ma la ripresa non è paragonabile a un risultato di grande eccezione, cioè si tratta di una ripresa dell'agricoltura che cercava a fatica di stare dietro all'aumento della popolazione, che era invece aumentata, si erano messi a cultura, dice il vostro libro, anche terreni più duri, rocciosi, ricchi di sale, proprio per soddisfare la popolazione che aumentava, ma che davano poco frutto, per cui secondo l'ipotesi del vostro libro, tra il 2000 e il 300, quindi un po' più avanti del 1000, ecco io sposterei le date in questo modo, direi dopo il 1000 una ripresa tra il 2000 e il 300, invece iniziano proprio le carestie, anche perché ci fu, non lo dice il libro ma ve lo dico io, ci fu un cambiamento climatico importante, viene chiamata piccola glaciazione, cioè il clima progressivamente andò raffreddandosi, non è una cosa temporanea e durerà per molti secoli, comunque inizia in questa epoca, se il clima si raffredda, certe coltivazioni che si facevano, per esempio si coltivavano i cereali anche in Islanda, non si coltivano più, o l'uva in Inghilterra non si sono più coltivate, quindi automaticamente si è prodotto molto meno, quindi un'agricoltura dopo il 1000 in ripresa con tutti i limiti di un'agricoltura non moderna, per cui spesso non dà i frutti sperati, talvolta una stagione non particolarmente calda o adatta porta a distruggere i raccolti, ma soprattutto tra il 2000 e il 300 le carestie, cioè manca il cibo proprio per la gente e questo miete vittime soprattutto in campagna, ma anche in città, chiaramente non solo la mancanza di cibo porta a un indebolimento del corpo, come è ovvio, se si mangia poco non si hanno difese e quindi a diffondersi di malattie effettive. Una di queste malattie sarà la peste, parliamo un po' della peste, la peste in sé è una parola che significa epidemia, per cui è più corretto dire che nel 300 si diffuse un'epidemia di peste nera, la chiamavano così perché portava a questo, era chiamata peste bubonica, perché come si manifestava? Dopo una serie di sternuti uscivano all'inguine o anche sotto le ascelle dei grossi buboni, un po' in tutto il corpo, si alzava la febbre e cominciava una tosse incessante, vomito, macchie nere e si moriva tra strazi e sofferenze atroci in due o tre giorni. Ne abbiamo un esempio in Don Rodrigo, nei Promessi Sposi che studierete con calma o alle superiori o in terza. C'è proprio questa rappresentazione, la vedete anche sul vostro libro qui, adesso non la vedete perché sulla pagina dopo, eccola qua, no, non c'è la rappresentazione sul vostro libro, ecco perché. Comunque al di là di questo, la questione è da dove viene questa peste? Allora, la peste ha un luogo di un focolaio costante ai piedi dell'Himalaya, attualmente in letargo, normalmente in letargo, comunque non preoccupatevi perché la peste è curabilissima oggi, e che si era scatenato come? che appunto sembrerebbe, secondo alcuni studiosi, perché il cambiamento climatico, l'abbassamento della temperatura, stranamente, l'aveva fatta, ma come tutte le malattie però, per il cambiamento climatico quando fa più freddo si diffonde, non l'abbiamo visto. Anche qui il cambiamento climatico aveva scatenato la peste. Da prima si era, a partire dalla Cina, si era diffusa soprattutto in Cina, poi dall'Oriente era passata all'Occidente, praticamente seguendo la Via della Seta, era arrivata sul Mar Nero, nella città di Caffa, che nomina anche il vostro libro. In questa città, che era di Genova, era un porto genovese, in pratica era successo questo, c'era la città sediata dai mongoli, i mercanti genovesi avevano ucciso alcuni guerrieri mongoli in una rissa, e quindi a questo punto i mongoli volevano vendicarsi. Furono però i mongoli colpiti dalla peste e quindi costretti a togliere l'assedio alla città genovese di Caffa, ma non rinunciarono alla vendetta per quella rissa in cui erano stati uccisi alcuni mongoli. Si racconta che hissarono i cadaveri degli appestati sulle catapulte e li lanciarono all'interno delle mura della città. Possiamo considerare questo un primo esempio di arma batteriologica della storia, cioè usarono gli uomini come se fossero delle armi batteriologiche. Infatti questi cadaveri appestati, i mongoli venivano dalla Cina e quindi portavano la peste, diffusero la peste all'interno della città di Caffa che era genovese, poi i genovesi con le loro navi venendo in Europa, sbarcando in Europa, portarono la peste. Prima si diffuse in realtà a Bisanzio, poi in Egitto e infine gli sbarchi, pur uno a Messina e a Marsiglia. Il libro parla di 1347 parlando dell'episodio di Caffa, dice che ci sono 12 navi che giunsero al porto di Messina ed è vero, però il 1348 è l'anno in cui si diffusa, proprio l'anno della peste, perlomeno quella che anche Boccaccio racconta nel suo libro, nella sua raccolta di novelle, il Decameron. Nel 48 contagia tutta l'Europa, del sud e centrale, ma poi addirittura nel 1350 raggiunge il nord Europa, per cui nel 47 è a Messina e a Marsiglia, nel 48 tutta l'Europa del sud, compresa Firenze e centrale, nel 50 la Scozia, le coste del Baltico, quindi in nord Europa. Si dice che uccide 25 milioni di persone su una popolazione di 75 milioni di abitanti, questo quindi vi si spiega la gravità. Partì dalla Cina e arrivò addirittura in Groenlandia e sulle coste dell'Africa, in particolare fino anche al Corno d'Africa. Il problema è come arriva, come arrivò, allora abbiamo, voi mi direte, ce l'ha già spiegato, è a caffa che si è diffusa tra i mercanti genovesi e poi loro con le loro navi le hanno portate, i commerci che facevano le loro navi, le hanno portate in tutto il Mediterraneo. Va spiegato un pochino meglio qual è il processo di diffusione della peste. Allora la peste viene portata, il bacillo della peste viene scoperto solo nel 1800, nel Medioevo nessuno ha mai capito da dove venisse e questo fu il grave problema anche per poter affrontare la malattia. Si annida nella pelliccia, dunque è la portatrice della peste, è la pulce. Tenete presente che le pulci malate di peste si annidavano nella pelliccia dei topi e i topi erano molto presenti nelle stive delle navi o tra i bagagli di una carovana che veniva appunto, come dicevamo, dalla Cina attraverso la via della Seta. Cosa succedeva? Che la pulce malata si annida nella pelliccia del topo e la trasmette al topo mordendo il topo, punge il topo, lo morde e lo infetta. Poi il topo non è il topo portatore della malattia, ma è portatore della pulce che a sua volta, oltre a uccidere il topo, salta sull'uomo e la trasmette all'uomo, per cui morivano topi e uomini. Il problema è che le pulci erano così diffuse che la gente viveva, l'abbiamo detto, nelle città, quando abbiamo parlato della vita nelle città, viveva nella sporcizia, la gente viveva nella sporcizia e da secoli era piena di pulci, erano come delle compagne sgradite, ma ineliminabili nelle abitazioni, soprattutto nei vestiti delle persone del Medioevo. Per cui non erano così spaventati dalle pulci, ma in realtà era la pulce che, se infettata, portava la peste. Ma il veicolo è il topo, cioè è colui che la trasporta. Le pulci da sole non riuscivano ad arrivare dall'Occidente all'Oriente. Il topo invece si annidava sul topo, il topo si annidava nelle stive delle navi o sulle carovane e arrivava fino al Mar Nero. Poi quelle 11 navi, o 12 scusate, che dice il vostro libro, i navi al bordo, mercanti, genovesi o romai infettati, l'hanno diffusa in tutta l'Europa. Va detto che si trasmette il bacillo attraverso la saliva. Ecco, una cosa che vi spiego è che al tempo non si rendevano conto che erano i topi che portavano le pulci malate, perché i topi si nascondevano facilmente ed era difficile sia nelle stive, nei fondi dei pozzi, tra le tegole dei tetti, e andavano lì a morire. Praticamente nessuno all'epoca ebbe mai la fortuna di vedere, di assistere alla morte di una massa, di una colonia di topi che avrebbe potuto almeno far capire che così come morevano gli uomini, morivano anche i topi e quindi ci poteva essere un legame, allora si poteva pensare che bisognava stare attenti e uccidere i topi che erano i portatori delle pulci. Chiaramente poi quando si diffonde all'uomo basta, l'uomo con gli sternuti la diffonde all'altro uomo. Però il passaggio dall'animale al bacillo della peste avviene attraverso la pulce e annidata sui topi. Quindi è un po' diverso da quello che viviamo noi oggi, comunque perché la differenza più grande è quella che spiega bene il nostro libro, è questa, cioè come vivono questo contagio, ci sono anche differenze ovviamente di tipo di malattia, però il contagio viene vissuto in un modo molto, come dire, con idee e preconcetti e superstizione, molto superstizioso. Come vi dicevo, il bacillo della peste è scoperto solo, dice il vostro libro, nel 1894, quindi alla fine del XIX secolo. Nel Medioevo cosa si pensava? Solo all'infezione che era provocata dall'aria malsana, che penetrava nei pori della pelle o magari ai flussi maligni delle stelle. Si raccomandava, come dice il libro vostro, di stare chiusi in casa, di bruciare profumi per migliorare e incensi anche per purificare l'aria, di rifugiarsi magari in campagna, in luoghi lontani dal contagio e poi c'era molto diffuso l'uso di amuleti, di portafortuna e l'idea comune era che fosse una punizione divina per i peccati dell'uomo. Quindi viene vissuta così, come una punizione di Dio per cui si organizzano prelegrinaggi, processioni e naturalmente il contagio diventa ancora peggiore, si facevano affollamenti che rischiavano il contagio, si invocavano santi protettori della salute come San Sabestiano, San Rocco, ecco ci sono delle che non sto a raccontarvi perché sono meno interessanti della malattia. Questi santi sono legati all'animalattia, alla protezione, alla preghiera contro la peste. Venivano spesso invocati e via dicendo. Sì, che rimedi avevano? La medicina era molto indietro, quindi capivano anche loro che era necessaria la quarantena. Da qui viene il termine che usiamo anche oggi. Si lasciavano per 40 giorni sopra il mare senza poter me le navi che si sapeva ormai che portavano la peste, non si sapeva come, non si capiva che c'erano i topi, le piede pulci che assadivano gli uomini, poi gli uomini tra loro sparnutendo, se la passavano, questo non si sapeva. Però si era capito che le navi che provenivano da zone dell'Oriente o dal Nord Africa, dall'Asia minore, erano sospette e dovevano stare per 40 giorni in mare aperto prima di entrare in porti. piano piano, ma con calma, con tempo, vennero anche costruiti dei lazzaretti, cioè degli ospedali dove raccogliere i malati di peste, per staccarli dalle altre persone, ma siamo già nel XV secolo. Quindi eravamo di fronte, la situazione era sicuramente molto più grave, ma anche per il numero di morti a cui assistiamo oggi, che è peraltro gravissima e ci stupisce visto i mezzi che abbiamo noi oggi, non ci stupisce che si possa essere verificato ancora qualcosa di questo genere. Quello che si verificò in più fu anche una rabbia contro alcune categorie che erano come sempre considerate, si trovano sempre delle categorie di persone che portano, si pensa che siano la causa della malattia e qui la rabbia era rivolta verso i vebrosi, va bene, già sono malati, ma soprattutto come al solito gli ebrei che erano stati accusati addirittura di avvelenare i pozzi dell'acqua. Quindi ci fu una, possiamo chiamarlo il primo olocausto della storia, cioè gli ebrei durante la peste del 1348 vennero considerati una delle cause della peste pensavano fossero loro ad avvelenare i pozzi, pensate un po', che cosa porta tutto questo al calo demografico, quindi c'era stato l'aumento demografico dopo il 1000, una crescita dell'agricoltura che faceva fatica a stare dietro all'aumento demografico, un improvviso cambiamento climatico che porta sia alla diffusione della peste sia al calo della produzione agricola, l'impoverimento della popolazione che mangia male, mangia meno a causa delle carestie, l'epidemia di peste si diffonde più facilmente perché la gente è debole, non solo, studieremo nel prossimo capitolo ci sarà anche per tutto il 300 la guerra dei cent'anni, una guerra che farà stragi e porterà ancora di più alla diffusione della peste perché anche i soldati si ammalavano e le soldatesche come dice qui favorirono la diffusione delle epidemie un po' ovunque, per cui anche poi nelle città assediate si vive male si vive a contatto quindi il contagio era più facile immaginate che differenza c'è con quello che stiamo facendo noi oggi dove abbiamo una consapevolezza tale per cui abbiamo capito che il distanziamento sociale è fondamentale e cerchiamo tutti tranne qualche caso di rispettarlo perché abbiamo raggiunto una conoscenza tecnica scientifica molto più alta eppure l'uomo non è sempre così consapevole avete visto in questi giorni alcuni assembramenti soprattutto di giovani che tendono a sentirsi un po' immuni ma non è detto ci sono anche portatori sani e poi magari fanno ammalare i loro nonni e i loro genitori quindi attenzione giusto rimanere a casa da scuola non tanto perché voi ragazzi siete delle fonti potreste malarvi io spero penso di no non sono tanti bambini non potreste anche essere dei portatori sani e comunque creare un disagio l'attenzione deve essere massima allora ecco qui vi racconta va letto bene questa scheda va letta molto bene perché entra nel dettaglio io vi ho aggiunto molte cose quello che vi dice in più qui è anche che al tempo della peste c'erano dei predicatori che appunto lo abbiamo già detto pensavano che fosse la collera di Dio che si che colpiva l'umanità e quindi pensavano che l'unico modo per evitare la peste fosse di chiedere il perdono a Dio va bene ma come anche attraverso la penitenza il pentimento anche attraverso gesti esteriori piuttosto violenti come facevano i flagellanti che percorrevano le vie della città frustandosi veramente con delle stringhe di cuoio pubblicamente per scontare i peccati altri invece reagivano in modo diverso abbiamo visto che abbandonavano magari le città e andavano in campagna a barricarsi perché si pensava che l'aria fosse meno contaminata altri decidevano di godersi la vita si davano al gioco all'ubriachezza proprio perché sapevano che era pensavano che fosse inevitabile e anche in quell'epoca i morti erano tantissimi veramente si assisteva a qualcosa che in parte abbiamo visto anche noi ma allora era veramente quotidiano e raccapricciante le bare si accattastavano fosse quindi anche i cadaveri venivano gettati anche nei fiumi contaminando ancora di più anche l'acqua chi moriva per strada veniva abbandonato e vorrei che voi leggeste questo leggessimo insieme questo brannettino tratto proprio da Boccaccio che non parla della peste solo all'inizio come cornice narrativa del suo Decameron ma è proprio la peste del 300 quella che colpì Firenze nel 1348 e gli dice che l'un fratello l'altro abbandonava il zio il nipote e la sorella il fratello e spesse volte la donna il suo marito e i padri e le madri i propri figli cioè non vuole dirci che a causa della morte si separavano ma per la paura della peste c'erano fratello e sorella madre e padre madri e coi figli padri coi figli e figli con i genitori moglie e marito per paura di prendere la peste dal proprio congiunto stretto congiunto li abbandonavano quindi hai voglia a parlare di morti come abbiamo visto di persone decedute da sole oggi nelle rianimazioni che ci ha creato un dispiacere qui c'era una tale paura perché non c'erano cure e una tale anche superstizione che la paura dettata dalla superstizione faceva vincere addirittura gli affetti più cari moglie e marito si allontanavano i padri e le madri che abbandonavano i figli malati e viceversa quindi non trovavano medici per curarli venivano abbandonati dai parenti e via e via vi racconta un po' di episodi che leggerete per conto vostro però questo è da sottolineare perché ci fa capire qual era la mentalità medievale soprattutto dettata dal fatto che non c'erano conoscenze scientifiche di nessun tipo e la gente si affidava a Dio ecco tutto questo porterà nelle campagne a dei cambiamenti quali cambiamenti chiudiamo un attimo il capitolo peste che abbiamo già abbastanza approfondito nelle campagne si avranno dei risultati degli esiti assolutamente negativi per i proprietari terrieri i grandi proprietari terrieri siccome diminui il bisogno ci fu un calo della popolazione perché muoiono diminuisce il bisogno dei cereali e i grandi proprietari terrieri guadagnano di meno perché producono di meno c'è meno gente che compra chi furono invece favoriti furono favoriti soprattutto in Italia e in Toscana i contadini che ormai erano rimasti in pochi e riuscirono ad ottenere dei contratti migliori questo avvenne in particolare in Toscana dove si diffuse la mezzadria un tipo di contatto un contratto agricolo molto vantaggioso per i contadini perché dividevano col padrone i prodotti della terra ma anche tutte le spese quindi era a metà per gli attrezzi per il bestiame eccetera quindi molto meglio di prima per cui certe famiglie contadine ebbero possibilità di sviluppare una piccola aziendina agricola in famiglia magari che sfruttava invece questo avvenne però solo in alcuni posti l'esempio è tipico della Toscana della medradria che fu un esempio per tutta l'Europa invece in resto dell'Europa soprattutto in Inghilterra e nelle Fiandre la crisi agricola la crisi le carestie la fame portarono a rivolte dei contadini che soprattutto in Inghilterra e anche in Francia scusate in Francia venivano chiamate Jacques Rie perché il contadino era detto Jacques Bonhomme una specie di soprannome come dire Giacomo il sempliciotto per cui le rivolte contadine sono le jaccherie dovute a cosa? al fatto che come abbiamo detto mancava lavoro e i contadini qui alla gente venivano imposte nuove tasse nuovi obblighi che impoverirono sempre di più i contadini a differenza della Toscana dove i contadini vennero avvantaggiati a causa delle tasse e degli obblighi qual è l'aspetto però diciamo di tutto questo se vogliamo dire positivo che a un certo punto la coltivazione dei cereali viene un po' abbandonata perché non si non rende il prezzo cala tantissimo non lo vuole non c'è gente che compra ma nascono nuove si introducono nuove culture quindi c'è un cambiamento nel modo di coltivare la terra riso vite olivo piante tessili che poi a loro volta permettono di lo vediamo qua di far sviluppare io non direi industria ma parlerei di manifattura tessile nel secolo successivo va ancora detto poco molto sinteticamente possiamo dire che il 300 fu anche il secolo delle guerre l'abbiamo già detto la vedremo nel capitolo prossimo e quindi i re facevano guerre una guerra di cent'anni si dice non durò cent'anni ma a periodi ma per cent'anni oltre alla peste e alle carestie c'era anche la guerra i re per poter mantenere gli eserciti dovevano o imporre tasse o chiedere prestiti alle banche e ai mercanti banchieri che divennero i veri protagonisti della vita economica addirittura le compagnie commerciali che costoro questi mercanti banchieri guidavano a cui erano a capo divennero così ricche più ricche degli stessi stati pensate quindi c'è un'altra categoria di persone che trae molto vantaggio quindi sono i mercanti banchieri e le compagnie commerciali da loro guidate i contadini in genere vi han detto si rivoltano tranne probabilmente in Toscana dove si diffonde la mezzadria i grandi proprietari terrieri vanno in crisi ma introducono nuove culture i più avanzati per risollevarsi come l'artigianato in città come si presenta com'è la situazione allora in città anche esse furono tutte le attività economiche furono colpite da questa crisi del 300 si ferma l'edilizia e l'artigianato tessile rallenta perché diventa difficile procurarsi per esempio la lana che era alla base ecco perché poi sarà importante la diffusione del bacco da seta queste nuove culture che dicevo c'è anche l'allevamento del bacco da seta e dei gelsi meglio per l'allevamento dei bacchi da seta e quindi la produzione di seta che pian piano e anche poi vedremo di altre fibre per poter sostituire un po' la lana anche vennero diffusi molti terreni più al pascolo delle pecore per avere più lana però all'inizio l'artigianato tessile rallenta l'effetto si avrà come avevamo già detto dopo nel secolo successivo quindi non nel 300 ma nel 400 grazie al fatto che vengono introdotte nuove culture l'Inghilterra che era una delle massime produttrici e fornitrici di lana ridusse moltissimo le sue esportazioni verso altri paesi stranieri quindi anche qui ognuno dovette un po' arrangiarsi dunque l'Inghilterra dice ridusse le sue esportazioni di lana verso i paesi stranieri e cominciò a sviluppare una frolida produzione di tessuto di lana per conto proprio cioè si chiuse in se stessa l'Inghilterra ma la produceva per conto suo non esportava la lana per cui chi lavorava la lana proveniente dall'Inghilterra per esempio a Firenze questo si faceva dovette chiudere e infatti a Firenze nel 1378 ci fu la ribellione dei cosiddetti cionpi chi sono? sono i salariati cioè quelli che prendono un salario uno stipendio nella cosiddetta manifattura io direi della lana eseguivano le operazioni più umili più pesanti all'interno di queste manifatture e i loro salari erano bassissimi però si rivoltarono perché chiesero salari più alti ma chiaramente e addirittura chiesero anche di poter partecipare al governo della città da cui erano esclusi non erano iscritti a nessuna arte come sapete a Firenze per poter partecipare alla vita politica bisognava essere iscritti alle corporazioni e essi infatti crearono una propria corporazione si impadrorirono del palazzo del Podestà e della guida di Firenze ma le altre corporazioni si allarmarono si allearono fra loro e li esclusero dal governo completamente ponendoli anche con l'esilio questi rivoltosi erano degli operai dei garzoni che facevano le parti più brutte del lavoro della lana e quindi prendevano veramente poco e si rivoltarono possiamo considerare questo un effetto della crisi generale cioè quindi in questo momento di crisi generale abbiamo pochissimi che traggono vantaggio per pochi soprattutto i grandi banchieri mercanti che fanno prestiti ai re per fare guerre per qualsiasi cosa in Toscana i mezzadri che migliorano un po' la loro condizione di vita ci perdono molto i grandi proprietari terrieri ma anche la massa dei contadini in tutta Europa e anche i lavoratori di lana come quelli di Firenze i cionpi che hanno fanno questa rivolta per cui è un periodo come dice di trasformazioni per forza di cose perché per uscire da una situazione del genere bisogna trasformare e di rivolte trasformazioni in campo agricolo e che però i cui effetti però si vedranno il secolo dopo e rivolte continue in quel periodo per tutte quelle categorie sociali che come i contadini in Francia nelle Fiandre in Inghilterra e i cionpi a Firenze che non riuscivano ad avere sufficienza per mangiare praticamente per cui chiedevano di più ricordate che c'era carestia peste e guerre e tasse messe sul popolo su chiunque da chi governava quindi la situazione veramente tragica confrontando a quello che succede da noi lascio a voi di fare una riflessione per il momento è tutto la prossima settimana parleremo della terza parte che invece è un argomento a sé stante merita un capitolo a sé che è un capitolo è un capitolo Grazie.